C'è anche questo, quindi diciamo che non dovremmo avere grossi o grossissimi problemi. L'unico problema che ci sarà, ti ripeto, è quello che magari in alcune zone della città, centro storico, strade piccole, stradine, lì ci sarà la necessità di intervenire con delle localizzazioni. Qualcuna già ci sta facendo, stiamo cercando di anticipare i tempi noi, qualcuno che già è di forme magari, non so, al codice della strada, stiamo già cercando da adesso di farlo spostare prima che succeda, che poi qualcuno... però diciamo che siamo ben messi su questa storia. Senti, un altro punto forte dell'attività della sindacale, degli eticolanti, è stato questo confronto con il prefetto a proposito appunto dei rapporti con la distribuzione. siete arrivati fino al punto di fare uno sciopero, se non ricordo male, quindi vogliamo capire un po' com'è ad oggi la situazione, che cosa si prospetta, considerando appunto il fatto che è stato un punto di scontro piuttosto forte con la distribuzione che voi avete proprio condotto su un punto fino al coinvolgimento del prefetto. Sì Fabio, su questa storia c'è da fare una premessa, perché qua a Napoli cosa è successo? Che le organizzazioni sindacali, come dicevo l'altra volta, hanno seguito un percorso istituzionale, cioè quello di rivolgersi alla prefettura e avere in quella sede un quadro chiaro. Un quadro chiaro cosa significa? Significa che l'agenzia di distribuzione insieme a noi abbiamo evidenziato un problema. L'agenzia di distribuzione ha detto sì, effettivamente il problema c'è e cercheremo di intervenire. La realtà è che forse fino ad oggi non è che si sia fatto molto. Questo che cosa ha creato? Che un gruppo di regolanti, tu lo sai, praticamente ha deciso di agire per conto proprio. Ci sono stati degli scontri con l'agenzia di distribuzione, scontri legali, che purtroppo non è che fino ad oggi si siano avuti dei risultati confortanti. Però voglio dire, su questo tema voglio spendere una parola, perché non si può dire che qualcuno abbia vinto e qualcuno abbia perso. Perché in questo caso io credo che qui stiamo perdendo un pochettino tutti. Perché ti dico questo? Perché anche se l'agenzia di distribuzione in questo scontro legale abbia avuto per adesso una partita vinta, il problema di fondo qual è? Non è che c'è un malessere in categoria che oggi magari 40, 50 edicolanti lo hanno espresso in maniera autonoma, ma la realtà dei fatti è che il problema è di tutti. Allora voglio dire, oggi bisognerebbe che noi, un poco tutti, per un attimo le bocce si incominci a ragionare, ma principalmente l'agenzia di distribuzione deve prendere atto che su questa piazza non è che c'è una gioia infinita. Voglio dire che tutti stanno... deve prendere atto che qui c'è un malessere e dietro questo deve cominciare a fare qualche passo indietro e cercare di dialogare, riprendere, come dire, un qualche cosa che si è rotto, che è finito. Perché se altrimenti si va avanti così, la situazione non è che poi col tempo può migliorare. Perché? Perché praticamente se oggi il malcontento lo hanno rappresentato 30, 40, 50 persone, domani se si continua su questa strada la durezza dello scontro, molto probabilmente il malcontento può crescere e possono diventare 100, possono diventare 150, possono diventare 200 e allora poi si va a finire in una situazione che poi non è più gestibile da nessuno. Perciò dicevo che oggi, voglio dire, anche se ci sono stati magari qualche riferimento legale che dia ragione a uno e meno ragione a l'altro, questo non significa che la situazione si sia rasselerata. Anzi, secondo me forse, ripeto, oggi è il momento necessario che si fermi un attimo le bocce a partire dal distributore, agli ericolanti, dalle organizzazioni sindacali, si faccia un punto serio sulla situazione e si cerchi di svelenire questo clima che c'è, ripeto, altrimenti non si sa più veramente trovo a che cosa è finita. Però non sembra che tiri quest'area, voglio dire, nonostante il vostro impegno sindacale, che poi vuol dire riuscire a portare su un terreno di confronto, chiamiamolo così, concertativo, va per intenderci, questa materia difficile, nonostante questo poi ci sono state le fughe solitarie del ricorso presso l'autorità giudiziaria che chiaramente possono portare ad un invelenimento del clima e quindi a una sostanziale debacle, perché poi in una situazione del genere chi ci guadagna è sempre più forte, lo sappiamo benissimo. Scusami, grazie. Prego. Una mia amica che pure lo prego. Fabio. Sì, sì, vai. Non ho capito la domanda, la mia pagina. No, no, la rifaccio, qual è il problema? Scusami. No, no, dicevo appunto, la situazione paradossale che si sta creando è proprio laddove si riesce ad avere una discreta azione sindacale, si è arrivati allo sciopero, lo ricordiamo, insomma c'è stato un clima piuttosto forte, poi alla fine il tentativo di alcuni di ricorrere allo strumento giudiziario rischia di far implodere tutto e come giustamente dici tu poi alla fine ci perdiamo tutti, insomma, da una situazione del genere. Assolutamente sì, Fabio, vedi, perché io lo dico e lo dirò sempre ma lo dico con onestà. Quello che hanno fatto questi colleghi, secondo me è giusto, è giusto potrebbe andare anche contro l'interesse perché, come dite, del sindacato, ma non è così, non è così perché voglio dire, io sono evicolante prima io, quello che hanno fatto è stato giusto, possiamo, non so, trovare una controversia sul modo, sui tempi, ma nemmeno questo serve a nulla, però fatto sta, il dato di fatto è che c'è qualcuno che oramai si è scocciata, non ce la fa più e praticamente è andata avanti, ora voglio dire, questo fatto non è che una cosa fine a se stessa, è un campanello d'allarme perché dimostra proprio un malessere, ora voglio dire, le parti che oramai stanno in causa e parto anche, vedi, guarda, io addirittura allargherei il laggio ai distributori nazionali che lo sanno benissimo quello che è successo a Napoli, nessuno è intervenuto, nessuno ha detto niente, almeno con noi non parlano con la rete di vendita, ma che oramai state stringendo le dita al collo a qualcuno che molto probabilmente non ci sta e non ci starà nemmeno dopo, ecco perché dicevo io, quello che può essere stato, ma che insidizio, non è che è la fine di un discorso, voglio dire Fabio, qua non è che sono due persone che hanno fatto una lita giudiziaria, due persone che non si conoscono, chiaro, allora io e te ci bisticciamo, facciamo una lita giudiziaria, io vinco, tu perdi, chiuso il discorso, no, noi qua ci incontriamo ogni giorno e qua c'è per fermare magari, come dire, il fastidio, l'insofferenza di una rete di vendita, perché ripeto, molto probabilmente il fastidio può aumentare e se aumenta, caro Fabio, veramente diventano 100, 150, 200 persone, il problema poi dopo diventa sempre più grosso, che si fa, si ferma tutto, si litiga sempre, non va bene, non va bene, non va bene, perciò dico tutti devono fare un fastidio, principalmente il distributore e chi ci sta dietro, c'è i distributori nazionali e gli editori, forse più distributori nazionali, devono cominciare a rendersi conti e capire che qua la situazione, e non parlo solo di Napoli, perché voglio dire che questa è una situazione che va in tutta Italia, se qui la situazione comincia di me la disposizione è un po' da tutto, è che si fa. Va bene, allora Aldo, noi ti ringraziamo di questa testimonianza, due punti caldi abbiamo affrontato da un punto di vista sindacale, quello del rapporto con i distributori, un altro punto importante, quello del rapporto con la pubblica amministrazione che sembra apparentemente un po' più tranquillo, tuttavia bisognerà vedere il prossimo anno quando si discuterà nel concreto di occupazioni di suolo pubblico, liberalizzazioni e temi connessi. Grazie Aldo, buon lavoro e vediamo, magari ci sentiremo già nei prossimi giorni per tornare a parlare di queste elezioni amministrative. Grazie Aldo, buon lavoro e vediamo, magari ci sentiremo già nei prossimi giorni per tornare a e vediamo, magari ci sentiremo già nei prossimi giorni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.